Ma è una partita amichevole, a me serve per valutare un po' le condizioni fisiche dei ragazzi, per mettere in pratica anche il lavoro tecnico-tattico che abbiamo fatto in questi giorni. È una partita sicuramente dove ci terrà molto impegnati perché incontriamo una squadra di categorie superiore, ci servirà molto perché potremmo capire a che punto siamo nella fase della preparazione e capire dove dobbiamo migliorare. È una partita amichevole, bella sicuramente, perché quando si incontra una squadra di categorie superiore c'è sempre quella voglia di fare bene e ci servirà per tante cose. I ragazzi si sono presentati bene, io l'anno scorso non avevo fatto la preparazione della Vezzano perché arrivai il 15 agosto, per cui ho avuto la possibilità di fare un ritiro e le mie considerazioni sono molto positive perché hanno fatto un buon ritiro, si sono messi a disposizione, abbiamo avuto la fortuna, grazie anche al merito della società, al presidente, di riconfermare l'85% dei giocatori dell'anno scorso, per cui già sapevano un po' la linea che abbiamo intrapreso l'anno scorso e con acquisti mirati dove hanno portato professionalità, impegno, lavoro e il ritiro è scivolato bene, con grande entusiasmo e sempre con grande voglia. Grazie.